Il gioco di squadra è un percorso che fa parte del progetto One Team, che è un progetto sociale di Eurolega. Consiste in tre incontri che si fanno con dieci scuole durante tutto il percorso scolastico e il campionato. Sono un incontro in classe dove si affrontano temi sul gioco di squadra, dove si porta l'educazione attraverso il gioco di squadra nei bambini, di solito di quarta e quinta elementare. Il secondo incontro avviene in palestra dove fanno dei giochi dove vengono ripresi i temi affrontati in classe. Sono giochi con sfondo e la pallacanestro ma che servono per far capire ai bambini come si collabora e come si lavora insieme. Il terzo incontro avviene invece alla partita, una partita di campionato la domenica sera dove portiamo i bambini al palazzetto a vedere la partita e a fare il tifo per i giocatori. Il gioco di squadra sicuramente perché favorisce la collaborazione, il lavoro di gruppo, l'importanza di lavorare insieme. I temi verranno sicuramente ripresi e rielaborati anche in ambito educativo con un solo motorio. Questo progetto mi ha insegnato che è meglio collaborare che fare da solo. Abbiamo collaborato tanto ed è stato ben costruito con dei belli esercizi e giochi. La parte che mi piace di più è tifare per i miei compagni così possiamo vincere tutti insieme. Grazie a tutti.